6 giugno, il regalo di un amico, è stato un'unica che nel mondo col colpo del colpista, attende i problemi dei piccoli, ma non è un'unica che è stata 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 un'unica Anche il condimento di meglio e non solo il condimento di meglio perché per lungo tempo ha dedicato la televisione, ha creato qualcosa che prima non c'era, poi la vita si è evoluta come si è evoluta, però l'impegno di Peppe è stato davvero sempre schierato dalla parte rapidile e ha rappresentato quello che poi è il giornalismo che caratterizza le nostre Inizio. Soprattutto il giornalismo che mi ha insegnato domenico attiva il mio saluto speciale questa sera e che mi ha portato qua. Domenico mi ha sempre detto putten, fai avanti, dipendi i valori dei cittadini.